strage familiare a franklin nel new hampshire stati uniti jane bell un uomo di 42 anni ha ucciso la sua fidanzata nicole axe e la loro figlia di un anno e mezzo ariela bell prima di suicidarsi con la stessa pistola l'unica superstite dell'orrore è la figlia maggiore della coppia una bambina di 5 anni che è rimasta miracolosamente vive vicini hanno allertato i soccorsi dopo aver sentito degli spari provenire dall'abitazione della famiglia le autopsie sui corpi delle vittime hanno confermato la dinamica di questo tragico episodio